E adesso è arrivato il momento di presentare un'importante esibizione su questo palco, l'Atletica 75, con una coreografia di Milena Balducci. Un'estibizione, in un po' di più, in un po' di più, in un po' di più, in un po' di più. Un'estibizione, in un po' di più. Un'estibizione, in un po' di più, in un po' di più, in un po' di più. Un'estibizione, 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 in un po' di più.